Amici in questo episodio di Fall Guy, che tra l'altro è il primo episodio che vi è piaciuto tantissimo Andremo a fare una sorta di challenge nella quale se non arrivo tipo in semifinale Dovrò shoppare una cosa nel negozio, quindi due partite, due ipotetiche shoppate Nei commenti tra l'altro scrivetemi altre challenge che andremo a fare su Fall Guy Le faremo tutte, cioè incredibili, assurdi, ci si diverte un mondo E signori iniziamo sperando di non spendere troppi soldi Iniziamo Amici come vi avrei detto nella intro, se non arriviamo, cosa che avevo detto, almeno in semifinale Signora Albano ovviamente è sempre con Bani, sempre i soldi, sempre quella lì, la coppia È sempre noi È sempre quella Chiaramente Se non arriviamo in semifinale, quindi non la finale, ci concediamo una semifinale Dovrò shopparmi almeno un oggetto per il negozio Quindi ci faremo due partite in questo video, come in ogni video Quindi in caso mi dovrò shoppare due oggetti del negozio, a mia scelta, per ora Poi in caso nei prossimi video scrivetemi voi delle challenge incredibili nel gioco dell'estate Perché chiaramente è il gioco dell'estate Sì, è quello delle porte che si spostano Mi fa totalmente schifo, quindi è molto probabile Ma sì, fa totalmente sboccare È molto probabile che moriremo subito Sei contento che devo già shoppare Anch'io parto per primo, siamo in parte La vedo, la vedo, la vedo Salta, salta, salta Sì, sì, sì Ok, mi sono lanciato come un matto Ho fatto il matto, ho fatto il matto Ok Sto schivando bene, stiamo andando benissimo No, hai preso il palo, fratelli Ok, per ora sto schivando un bel po' di robe Vabbè, siamo già in 44 Dai, ma mi sei morto al primo round Al primo round È, fa un po' schifo quella mappa Vabbè, quella lì col pallone non l'abbiamo mai fatta E non la faremo... No, dai, c'è ancora quella delle porte Che schifo, oggi tema porte Oggi il video è a tema porte Dannazione, dai, ma fa schifo Vabbè, dai, ma sei sculato Sì, l'altra volta, esatto Per chi non avesse visto il primo video Che tra l'altro è piaciuto a tutti È andato benissimo Invito ad andarlo a vedere Giustamente, giustamente Tra l'altro, sì Quanto fortuna ho avuto l'altra volta Con ste porte Cioè, fuori di te Sì, fuori di testa Si qualifica lì in 33 Dai, la porta per forza Per forza Ora, dato che quella è questa Guarda, per forza Sì, per porta No Eh, aia, aia, aia Aia, aia, niente Niente, niente Mega male qua Mega male, mega male Dai, qua per forza Sì, chiaramente No, oh, oh Dai, sono straultimo Mi sa che qua Cacciamo la scioppata, eh Eh, niente Guarda quanti Sono tutti avanti Eh, niente No, niente La fine, la fine Passiamo da destra, però Non mi qualificherò mai Se prendi due porte sbagliate È la fine Sì, eh, esatto Sì, ma è a caso Cioè, che schifo Guarda qua Tutti i maiali Eh, vabbè, niente 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 Ultimo sono Ultimo sono Eh, vabbè, vabbè Però, però No, non ce la faccio Eliminato Dannazione Devo scioppare Perché, quitta Non voglio vedere niente Tra l'altro Vediamo quanti punti ci danno Dai, dammene un centone Dammene un centone Dammene un centone Non mi ha dato minimamente Un centone Me ne mancano 31 per il prossimo livello Quindi, dato che ora Ce ne facciamo un'altra Se perdiamo anche la prossima Scioppiamo due cose Se perdiamo Solo questa Scioppiamo solo un oggetto Quindi, in caso, si scioppa a fine video Giustamente, no? Così sale l'hype Sale l'hype E vorrei anche salire a livello 5 Grazie Seconda partita Sperando di non scioppare Tra l'altro Tu mi stai dando manforte Ma te non scioppi niente Guarda che nel prossimo video Ti faccio scioppare Ah, me lo scioppa anche lei Ah, attenzione Doppia scioppata Comunque Dizzy Ice Ice Una roba del genere Non mi ricordo il nome Ok, non mi ricordo il nome Che è stra carina come mappa E c'è un botto di gente Un plotone Un esercito C'è un esercito Però Comunque, secondo me Conviene passare da sotto Quando ti fanno cadere Oddio, che sberla che ho preso Quando ti fanno cadere Conviene passare da sotto Poi Non ne ho la certezza Sono caduto Eh, io dico, io dico Non ne ho la certezza Guarda quello che si prende le palle in testa Ma io sono sempre ultimo No, sei ultimo Ma come, ma come Non riesci a gestire Ultimissimo addirittura Eh, vabbè E sono caduto Eh, ne ho tirato una crapata in gola Io sono qualificato Lei come sta messo? Di merda Perfetto Non ce la Non ce la fai? Dai, non riesci a qualificare Corri Sì, corri Ah, no, non sei tu No Vabbè, che imbecillo quello Dai, 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 dai No, non ce la faccio Fia che palla Dai, zii Com'è possibile? Difficile, bia Com'è troppo difficile? Dai, allora Allora, facciamo così Per il bene della squadra La quitto Ok La quittiamo Però non la contiamo come sconfitta Perché abbiamo perso per colpa tua Sappi 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 Che è colpa tua Che non riesco a farmare io Come fai Come è possibile che non ti qualifica il primo round Immagina il secondo Vabbè, vabbè Metti pronto Imbecillo Ah, sai cosa sembrano questi? Hai presente quelli di Winnie the Pooh? Che avevano la gommina sopra No Amotiziai Come no? No, quali gommina? Cosa ti faceva vedere la tua mamma da piccola? All'elementari Ok C'erano i cosi di Winnie the Pooh Ah Vabbè, cos'hai tirato fuori? Cosa mi hai tirato fuori? Sono quelli Oddio, sono quelli Se il master dell'editing si ricorda Metterà un'immagine di quelli là E voi direte Wow Oddio Eh, ma come si chiamano? Winnie the Pooh con la gommina Winnie the Pooh Winnie la cacca Comunque io sono già primo Sono bello carico Sono bello carico Eh, vabbè, cheat Sono ultimo Corro un botto Corro un botto Comunque c'è gente che ha delle skin stupende O stanno nerdando come dei maiali Sì, sì, sì Schifosi proprio Sì, schifosissimi Vabbè, lei come mi sta messo questa volta? Eh, sto prendendo le palle in faccia Ecco Che potrebbe essere decontestualizzata come frase Ma comunque veda di fare veloce Perché restartare di nuovo Allora, quella tecnica salto e lancio Guarda che non è male, eh Non è male, mi dice Io sono malamente caduto Sto giro, 23 Eh, zì, ce la fai? Qualificato Oh, ok Buono, buono, buono No, perché qua qualcuno c'è a carogne Quindi il primo round Andato Pulito Oh, guardiamo gli altri morire Ciao Via via Ciao, ciao Vedi quanti ne hanno fatti fuori Oh, bene, bene E ora in teoria Secondo me c'è il rullo Te la butto lì Comunque c'è uno con la skin Bellissimo No, ok Ok, allora Tattica, tattica Ricordatene uno per casella Ed è fatta Dai, però questo è brutto Cioè, non è bruttino Però Eh, ok Non è morto credo nessuno Cioè, se qualcuno qua è morto È proprio un pollo Ok No, sei morto No Mi hanno fatto cadere Ti hanno fatto cadere Che infami Qualificato Va bene, dai Tanto calcola che manca solo un round Stumble charms Duomo trofeo C'è un mangio gas Dai Che sfiga L'ultimo Ti hanno fatto cadere Sti infami Sì No, guardate come mi muore il signor Albano Ripperoni Ripperoni Ora, se supero questo round In teoria mi qualifico Cioè, mi qualifico Arrivo in semifinale Ma sai perché Tipo, io salto Dopo mi fanno svenire in volo Eh, sven Eh, niente Lì non hai più il controllo Eh, sì Lo svenimento in volo è male Però è male anche Che ora devo fare con il team E si sa che i team Fanno schifo Chiaramente Chiaramente Fanno sboccare Sì, fanno vomitare Oh, siamo l'azzurro Però è il mio colore preferito Perfetto Cerchiamo di prendere Più anelli possibili E nel dubbio Me ne vado qui Vai, master Sotto Di 360 Va bene, ok Wow Ok Uh, carino Questo oro Questo oro è fondamentale Questo oro è fondamentale Salta Ah, sì, sì Preso, preso, preso 13 punti Ok Ok, ok Perfetto Questo è mio Vai, vai, lì Qua è tuo Assata No Mi ha preceduto Sì Mi ha preceduto Salta Eh, quanta gente Che casino Devi andare in quelli Dove non ci va nessuno Tipo questo Che però siamo tutti blu Va bene, ok Siamo picchiati per uno Quello ormai è loro Eh, vabbè Ma siamo a 28 Siamo messi bene I gialli Stai qua sopra No, stai lì sopra Sto sopra, dici Perché Eh, sì, è vero Ora spawna in mezzo In teoria Giusto? Giusto? Vai, vai Ora spawna Eccolo, eccolo No Ma dai Te lo sei fatto in Chiucchiare Che imbecilla Che imbecilla Avevo un solo compito E l'ho fatto male Hai fallito Vabbè Ma abbiamo vinto Guarda i gialli Sì Guarda i gialli Esagerati noi Sì Oddio 66 67 What the fuck Ora Non so se è la finale O la semifinale Nel dubbio Se esce scritto finale Vuol dire che non devo scioppare I gialli sono morti Gialli stramorti Però bellissimi In teoria è questa la semifinale Vediamo 18 Eh, o si va a 18 O si va a 11 in finale Dipende No, no Questa è la semi Me lo dice Ah, qua posso Eh, vedi Questa è la semifinale Quindi siamo salvi Non devo sci... Cosa devo fare? Avoid the walls Solo un oggetto Solo un oggetto Quindi evita i muri E stai nella piattaforma Perfetto Sarà difficilissimo È tipo Tetris È un Tetris In real life No, guarda come mi spingono Praticamente ora arrivano i muri Da esatto qui E devo evitarli Per ora dici Oh mio Dio Che stupidata Eh, eh Qua la tecnica del salto più quadrato È fondamentale Sì, è qua Qua proprio è utilissima Ed è anche carino Trattenere gli avversari Salta Salta Sì, sì Così guarda che stocchi un bot Sì Oddio Inizia a farsi pericolosa Ma sai cosa? Dovrei stare sul bordo dietro Ma ho paura che mi vengano anche da dietro Spostatevi 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 No, no Che male, che male Sai cosa? Vai, vai Qui, qui In mezzo Qui in mezzo Bravo Perché poi Gli altri vengono spinti dietro Io vengo spinto giù Esatto Stai un po' più avanti Eh, ma se sto avanti però Ho meno tempo Cosa devo fare? Salto Salta, salta Salto, ok Ok Dai, dai, quanto manca 50 secondi? Che ansia, che ansia Salto, 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 salto Qua dura Eh, sono svenuto Oddio 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 Boh, li sto schivando tutti A caso, qua sulla sinistra No, no No, quanto piccolo qua E qua male, qua male Svengo Uh, invece Dai, 19 secondi Eh, vabbè, niente Niente, il tornado Il tornado Cioè, quindi il bello che volendo Tu puoi arrivare in finale Tipo in due Magari, metti che muoio in tutti Hai automaticamente vinto Eh, quello è bello, sì Ah, sì, questo ci sta Due, uno, salvi Yes Siamo salvi No, sono morti in otto Quindi finale a nove Perfetto Siamo arrivati in finale Che figata Devo correre Continuare a correre Esatto, esatto Esatto Devo sempre correre Hexagon Piccolo gioco di parole Schifosissimo Ok Corri meglio Salta Ok, va bene Vai, corri, corri Master Corri, corri, corri Che l'altra volta, tra l'altro C'eravamo arrivati Tu ce l'hai arrivato qui Ma avevamo sbagliato Perché non sapevamo Oh Esatto Andai, vai Master No Ok Ok Eh, va bene Va bene, va bene Continuo a correre Sì, continuo a correre Non mi fermo mai Corri un botto Ok, perfetto Alla fine Salta, salta, salta Corri un botto Corri un botto Gli altri come Oh, sono l'unico sopra Sono l'unico sopra Vai, vai, va benissimo Benissimo, benissimo Ah no, non è vero Non sono l'unico Siamo in due Vabbè, ci sta che siamo in due Abbiamo più spazio per noi Ok Ok, perfetto Qua continuo a girare qui Continuo a girare Eh no, perché se torno indietro Non c'è abbastanza tempo Devo fare così Così E ora sono un po' a blocchello Sono un po' a blocchello Addio Ok, ok Ah, che male Che male Vai qua Oddio 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 Ok A caso A caso Oddio Quanti ne mancano? Dai, ne mancano Sono morto No No Eliminato Difficilissimo 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 E anche un po' A caso Aggiungerei Ma guarda chi ha vinto Ma con che faccia Con che faccia Me lo sta Di ceppone Ma dai Tira io una corona in testa Vi prego Ok Va bene lo stesso Va bene lo stesso Mi hanno fatto sparire Sì, è sparito per sempre Ora in teoria ci dai punti E purtroppo Per fortuna Si scioppa Oh, me lo scioppa anche lei Sì, sì Me lo scioppa anche lei Vediamo quanti punti ci danno Level up Tra l'altro ci ha dato una corona Io direi Inauguriamo le corone Shoppando A meno che non ci sia Qualcos'altro di carino Non lo so Andiamo a fare un salto Nel negozio Vediamo cosa c'è Allora c'è l'outfit ninja Dovrei shoppare i cash Oppure c'è Oh, quella del t-rex Leggendare Carina Ma ci compriamo la stealthy Ce la compriamo Per case Signori Abbiamo esaudito i nostri desideri Da shopponi Cosa sta succedendo Perché sono qui Va bene È stato giusto shoppare Ci mettiamo la stealthy Oh, che carino Vedi che bella Vedi Oh, ci sono anche i pattern Quelli particolari Tengo il fulmine Bala Nel prossimo episodio Scrivetemi voi I commenti Nei commenti Più che i commenti Scrivetemi voi nei commenti Che cosa fare Siamo a livello 5 Siamo carini Tutti neri Credo che l'hai shoppata anche te Ora in caso ce la mettiamo Entrambi Nel prossimo episodio Scrivetemi Che challenge particolare Fare su questo gioco Che è chiaramente Il gioco dell'estate E questo piccione È devastante Vi ringraziamo Per la visione Vi do appunto Mettorobali Al solito rovero Due e un quarto Con un nuovo video E niente Con un nuovo video Ciao